Siamo al calcio in Serie C, ancora al pareggio a reti inviolate per la Torres, che resta comunque prima in classifica. Male invece l'Olbia, che perde 1-0 in casa del Gubbio. Roberta D'Ore. Nove risultati utili consecutivi e secondo pareggio di fila per la Torres, che nonostante i meriti e le numerosissime occasioni, conquista un solo punto nella sfida casalinga contro il Ponte d'Era, finita a reti inviolate. A dominare la gara Finda-Vio e Rosso-Blu, come a stimo trascinatore, oltre ai soliti Ruocco, Scotto e Fischnaller. Nella ripresa, a condurre il gioco, in un match praticamente a senso unico, sono sempre i padroni di casa, capaci di creare diverse azioni gol, ma non di finalizzare tra un pizzico di sfortuna e qualche imprecisione di troppo davanti alla porta avversaria. Inutili sul finale, i cambi di mister greco, il risultato non si sblocca dallo 0-0. La Torres a quota 23 punti, mantiene però ancora il primato della classifica del Girone B e guarda già al prossimo impegno infrasettimanale, mercoledì alle 20.45 sul campo del Pescara.